In occasione dei festeggiamenti di San Silverio, patrono dell'isola di Ponza, è stato rafforzato il dispositivo di vigilanza delle fiamme gialle del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia sulle isole Pontine, una delle località a più alta vocazione turistica della regione Lazio. L'attività si protrarrà fino a settembre inoltrato. Come ogni anno, nel periodo estivo, le isole Pontine sono meta di moltissime imbarcazioni da di porto e di numerosi vacanzieri, attratti dalle bellezze naturalistiche di questo splendido arcipelago di origine vulcanica. L'affolamento, o meglio il sovraffolamento, crea spesso non pochi problemi sia all'ordine pubblico in mare, sia al regolare svolgimento di tutte le attività dell'economia legale connesse alla Blue Economy, alla nautica da di porto ed in particolare alle attività di noleggio. Quest'ultimo è un settore economicamente florido, ma anche ad alto rischio di evasione. Giova a ricordare che la normativa in materia in linea di sintesi prevede tre istituti, la locazione che consiste nel cedere dietro compenso l'utilizzo dell'imbarcazione senza equipaggio, il noleggio che consiste nel cedere l'imbarcazione completa di equipaggio, quindi con skipper abilitato alla conduzione del mezzo nautico, ed il noleggio occasionale riservato a privati che possono concedere la loro imbarcazione per un massimo di 42 giorni all'anno. I proventi da riportare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 20% oppure alle liquide IRPEF vigenti. L'evasione fiscale è uno dei maggiori problemi del nostro paese, conclude il comandante del Roan di Civitavecchia, il colonnello Camillo Passalacqua. Il settore della nautica da di porto non è esente da questo odioso fenomeno, che sottrae preziose risorse al bilancio dello Stato.